Tutti sono convinti che sia il potere politico a stabilire le condizioni di sviluppo della città, e invece non è affatto così. Sapete chi decide praticamente quasi tutto per il prossimo Pug? Il responsabile del progetto, e cioè l'ingegner di Leverano, nominato in quella veste dalla Giunta Mennitti. E il responsabile del progetto ha anche l'incarico di verificare le capacità tecniche dei progettisti e tutto ciò che attiene anche gli aspetti più particolari del piano, che sarà il documento basilare per lo sviluppo della città per i prossimi vent'anni. Non sarà la Giunta oppure il Consiglio Comunale quindi a fissare le strade urbanistiche attraverso le quali poter dare slancio all'economia cittadina, bensì un dirigente che potendo, peraltro, mettere il proprio visto praticamente su tutto, potrà anche porre il suo veto a tutte o quasi le decisioni che dovessero arrivare dall'esterno, e cioè anche dai partiti. Peraltro, di Leverano, come noto, ha presentato domanda per essere assunto all'autorità portuale e sembra che la commissione preposta per la valutazione dei curricola abbia promosso proprio lui come candidato ideale. Per cui la strada per l'assunzione sembra oramai cosa fatta? In condizioni normali, e cioè con una amministrazione autosufficiente e non praticamente commissariata dai dirigenti, sarebbe scontata la sostituzione del responsabile di procedimento. Ma siccome di Leverano, come un po' tutti i dirigenti del comune, ha sommato su di sé un cumulo enorme di incarichi, diretti o indiretti, è chiaro che la sua sostituzione non è affatto semplice. Ed è per questo che ci sarebbe pronta la soluzione, con di Leverano che lascia il comune, ma conserva tutti gli incarichi professionali, e cioè quelli non legati alla sua carica di dirigente. In altre parole, tutti quelli pagati in extra rispetto al suo stipendio base. Se ciò avvenisse, sarebbe uno schiaffo alla città e agli altri professionisti che stanno contando le ragnatele nei propri uffici, vista la profonda crisi che sta attraversando il paese, e quindi la nostra realtà già di suo molto povera. A tal proposito, vogliamo ricordare che gli incarichi che prevedono un pagamento a parte rispetto allo stipendio base sono i cosiddetti progetti per strutturazione e quelli per servizi. Solo per i primi la legge fissa una parcella pari al 2% del valore dell'appalto, mentre a parcella professionale vengono pagate le direzioni lavori che spesso, si è visto in concreto, sono un po' superficiali, se poi, come è accaduto per la scuola ristrutturata al quartiere San Paolo, cadono stranamente i solai in testa agli extracomunitari. Ma siamo sicuri che se si chiede conto al direttore di quei lavori ci sarà sicuramente una ragione al di fuori della ristrutturazione che avrà causato il crollo, di cui non ci sarà mai un responsabile. Ed è questa la cosa veramente incredibile, che per gli errori, gli sprechi di denaro pubblico, i progetti mai realizzati, non c'è mai un responsabile. È sempre colpa di altri e le città vanno sempre più giù e Brindisi ne è uno degli esempi più evidenti. Ma non è solo al Comune che ci sono queste situazioni, perché anche altri enti possono vincere la Coppa di primi della classe. Esamineremo fra qualche giorno le spese fatte dall'autorità portuale e i ritorni in termini pratici per la città ed il nostro porto. Grazie. 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 Grazie.